Ciao amici di Taliato Games, sto cercando di fare tutti i video reaction a tutti i messaggi, a tutte le notifiche, a tutti i commenti nei video che stanno arrivando. In questi giorni ho a tempo dovuto anticipare tutte le mie altre attività di lavoro nei primi tre giorni della settimana e questi giorni fino a oggi, poi domani un attimo si stacca la spina, sto cercando davvero di rispondere a tutte e tutte le vostre domande, a tutte le vostre richieste nei limiti del possibile. Nuovo momento speciale è per la Master League, in tanti mi avete segnalato che Renan Galvani nelle ultime ore aveva segnalato che tutti gli aggiornamenti e il sì di football sarebbero stati gratuiti. Non ha sbagliato Renan Galvani, però io gli ho fatto presente questa cosa proprio qualche minuto fa e dopo lui ha notificato, non so se sia stata una cosa casuale o ha ricevuto altre segnalazioni. Renan Galvani è stato, ha sbagliato non per colpa sua ma per una traduzione del sito ufficiale di football in portoghese sbagliata perché lui portava effettivamente la traduzione del sito in cui si diceva che tramite aggiornamenti e di lc gratuiti. Io già ve l'ho fatto vedere qualche giorno fa, lo so che sto facendo tanti video e non li potete vedere tutti, lo capisco, però io più di fare video, più di fare articoli per darvi le informazioni corrette non posso fare. Comunque qui nella versione italiana c'è scritto, in futuro arriveranno tante altre funzionalità tramite aggiornamenti gratuiti e dlc, quindi gli aggiornamenti sono gratuiti, i dlc a pagamento. Avevo pure detto che era un po' strana questa dicitura, dovevano scrivere semplicemente aggiornamenti gratuiti e aggiornamenti a pagamento perché gli aggiornamenti sono dlc. Ma comunque, vabbè, è specificato chiaramente, aggiornamenti gratuiti e dlc. Quindi il sito italiano è corretto ed è fatto bene, per una volta non ci possiamo lamentare. E appunto Renan Galvani, proprio in questi minuti, ha riportato un tweet che traducendo al sito giapponese diventa più chiaro. Renan, potevi venire anche da noi in Italia per una volta, che ML non sarà una modalità gratuita e qui ritroduce in portoghese, io riprendo l'italiano, inoltre stiamo pianificando di distribuire in futuro aggiornamenti gratuiti e contenuti aggiuntivi scaricabili, come l'installazione di varie funzioni, l'aggiunta di Master League e modalità di modifica. Quindi ragazzi, la modalità Master League, sempre se Konami non abbia intenzione di cambiare nuovamente i suoi piani, sarà a pagamento. Sarebbe anche assurdo fare una modalità single player gratuita, non avrebbe senso, non ci guadagnerebbe nulla Konami. Le modalità online le fa gratis, non perché Konami è una benefattrice, come tutte le aziende deve fare il profitto. Questo propone la formula del free to play per far shoppare i giocatori dentro alle modalità online. Questa è la cosa. In modalità singola non ci avrebbe nessun modo di fare soldi, se non quella di vendere il contenuto e quindi logicamente la modalità doveva essere a pagamento. Magari, non so, per il primo anno per farsi perdonare gratuita, la vedo dura, la vedo dura che possa fare una cosa del genere. E comunque è Renan Galvani che rettifica la notizia che lui aveva dato non per errore, ma appunto perché la traduzione del sito in portoghese era sbagliata, ha rettificato. Con questo spero di aver risposto a tutte le vostre domande, richieste di spiegazione e di informazioni. Ci vediamo al prossimo video, vi ricordo che se ancora non vi siete iscritti al canale, fatelo, fatelo, fatelo subito. Ciao!